Streghe o sante? La storia ha sempre diviso le donne in due categorie antagoniste, senza possibilità di sfumature, o peggio ancora, in posizioni facilmente ribaltabili. Quante sante sono state accusate di essere streghe? Quante presunte streghe alla fine sono diventate sante. Dalle sante alle streghe, le donne nel cinema del Medioevo e l'ottavo appuntamento dei mercoledì con la storia, alla libreria La Terza di Bari. I mercoledì con la storia sono un po' un nostro fiore all'occhiello. Da tanti anni collaboriamo con il Centro Studi di Normanno Svevi e con l'Associazione del Centro Studi di Normanno Svevi e sono veramente molti, molti anni. È un caso di rapporto di progetto stabile, non facile da costruire, ma devo dire, riusciamo ad essere sempre in sintonia. Oggi abbiamo una bellissima manifestazione dedicata alle donne nel cinema nel Medioevo, quindi sono anche dei progetti molto originari, ma l'importante è trasmettere l'amore e la conoscenza della storia. I riflettori si sono accesi proprio su questa dicotomia che si ripete nella storia, da Giovanna d'Arco a Caterina da Siena, passando per il De Garda di Binken e i Pazia. Una terza figura spunta così all'orizzonte, le donne colte, messe proprio nel mezzo tra le sante e le streghe, affare da Tredunion, con l'esempio fulgido di Cristina da Pizzano, considerata tra le prime scritturci europee e una sorta di femminista antelittera. A narrare queste figure di donna, il professore medievista Raffaele Licinio e il critico cinematografico Vito Attolino, supportati dal due Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, da Drindillon, diavolo tentatore, impersonato da Giovanni Timeo, e da un disturbatore, l'imprevedibilità fuori campo, Vincenzo Fiore. Due ore piene per offrire una visione delle donne che è sempre in bilico, tra sacro e profano, sempre avvolta in un mantello di misticismo che ne rende impossibile una loro completa, chiara e definitiva decifrazione.